Martedì 26 settembre, Santi Cosma e Damiano. È il 269esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 96 al termine. Il sole sorge alle 7 e 2 minuti e tramonta alle 19 e un minuto. La luna si leva alle 13 e 5 minuti e tramonta alle 22 e 41. Il Senato Veneto decreta che l'ospedale di Lonigo, incontrata a San Juan, venga adibito esclusivamente al ricovero di infermi e ammalati poveri. Dovranno avere, dice il decreto, comodi letti, congruo alimento, medici, chirurghi e medicine per tutto il tempo della loro malattia. Le previsioni per domani. Tempo stabile in pianura con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Variabile in montagna per moderata attività cumuliforme associata a qualche piovasco o rovescio. Temperature stazionarie in entrambi i valori estremi. 20. Ancora qualche rinforzo di bora sulla costa nelle prime ore della giornata.